Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il riguardo dei 300 iscritti, anche nel fatto che l'abbiamo raggiunti davvero in pochissimo tempo. Questo è lo speciale 300 iscritti che sono degli rights di due bedwars che ho registrato con Matteo. Inoltre il lunedì 5 mattina ci sarà una live scritta di cambi su Minecraft o su quello che vorrete voi. Sarà presente pure Matteo e inoltre potrete giocare anche con noi se volete. Buona missione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!